Vi ricordate il nostro servizio in compagnia di una ragazza costretta su una sedia a rotelle? Con lei avevamo fatto una passeggiata per il centro storico Faintino e una delle difficoltà più assurde era legata al passaggio sotto il loggiato che fiancheggia la piazza del popolo. Proprio il loggiato ha sempre avuto la rampa su un solo lato, mentre dall'altro erano presenti gli scalini, quindi per poter scendere ogni volta bisognava percorrere due volte tutta la loggia. Ebbene, finalmente ieri sono iniziati i lavori per la costruzione di due rampe, una per ogni loggia, che renderanno gli accessi possibili anche per i diversamente abili su ambo i lati. I lavori sotto alloggiato lato piazza della Molinella si dovrebbero concludere senza problemi entro fine settimana, mentre quelli per la costruzione dello scivolo lato torre dell'orologio procederanno nei giorni successivi alla conclusione del primo.